All'interno della collezione d'arte contemporanea del Museo Universitario intitolata I Grandi Maestri del XX secolo troviamo i nomi dei massimi esponenti della scultura italiana del Novecento. Giacomo Manzù, Francesco Messina, Marino Marini tutti e tre nati ad inizio Novecento. Troviamo anche il nome di Giuliano Vangi forse oggi uno dei più grandi scultori italiani viventi a lui è intitolato un intero museo in Giappone e troviamo i nomi dei più giovani Giuseppe Bergomi e Paolo Borghi autore di quella magnifica tartaruga a Tiatina opera in bronzo collocata davanti l'ingresso principale del nostro museo. La scultura italiana del XX secolo si qualifica nei termini di un'esperienza molto complessa che raccoglie tutte le difficoltà e le inquietudini di un secolo che ha conosciuto ben due guerre mondiali e tutte le loro drammatiche conseguenze. Da una parte troviamo importanti eredità di fine Ottocento. Pensiamo all'energia impressa alla materia dal grande scultore francese Auguste Rodin, pensiamo alle innovazioni plastiche condotte dall'italiano Medardo Rossi e pensiamo anche a quei valori di sintesi formale raggiunti dal romeno Constantin Brancouch. Dall'altra parte troviamo tutte quelle spinte innovative che si verificano nell'immediato secondo dopoguerra. Quindi una grande voglia di cambiamento, un profondo rinnovamento dei linguaggi, delle sensibilità e soprattutto una attenzione particolare per quella che viene individuata come la nuova frontiera dell'ignoto, lo spazio, tema con cui tutti gli artisti sentono di doversi confrontare. Dunque per quegli scultori che nel secondo novecento portano ancora avanti il valore della centralità dell'immagine, per quegli scultori italiani che puntano ancora sul valore della figura, ecco la necessità di pervenire ad un linguaggio profondamente rinnovato e a un rinnovato senso del valore umano. Il tema della bagnante è particolarmente caro all'artista bresciano Giuseppe Bergomi, nato nel 1953, autore del bronzo monumentale Uomini, Delfini e Parallelepipedi per l'acquario di Nagoya in Giappone, per il quale l'artista ha realizzato una serie di personaggi su parallelepipedi immersi in una vasca d'acqua, mentre dei delfini saltano dal mare verso le donne, gli uomini e i bambini. Bergomi è considerato a livello internazionale tra i migliori scultori contemporanei. Qui abbiamo una figura femminile dalla plastica molto solida ed elegante, una bagnante colta nella sua intimità di donna contemporanea che affiora sulla superficie dell'acqua e noi vediamo la parte emersa del suo corpo, immaginandolo nella totalità. Un tema che l'artista ha amato molto insieme ai tanti soggetti femminili che segnano il suo linguaggio creativo, caratterizzato anche dal dialogo con il colore, sia nella raffinata trattazione delle patine e dei bronzi, sia nelle celebri terrecotte policrome, sempre di grande fascino e seduzione. Nato a Pistoia nel 1901, Merino Merini si pone certamente tra i maggiori esponenti della scultura figurativa del Novecento. Celebre per i suoi cavalli e cavalieri, racconto senza tempo dell'unione tra umanità e natura ed anche indagine antiretorica sul tema monumentale della figura a cavallo. Questa testa di donna dalla plastica pulita e compatta è stata realizzata due anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1937, in un momento in cui l'artista accentua la sua inclinazione emotiva dei propri lavori. La scultura mostra un volto femminile, dal modellato fermo e rigoroso, stemperato dalla pacatezza rotonda del viso, un volto che trattiene a sé un'idea di arcaico e di assoluto, perfettamente in linea con le tendenze artistiche più avanzate di quegli anni, volte ad infondere uno spirito antico nell'arte del proprio tempo. Francesco Missina, nato a lingua glossa in provincia di Catania nel 1900, è certamente noto a tutti per il celeberrimo cavallo morente posto a Roma davanti al palazzo della sede Rai e considerato dalla critica tra i più grandi scultori italiani del Novecento. Per l'artista la vera bellezza non risiede in una condizione temporale che la inquadra e la definisce, piuttosto si fonda sull'incontro tra un rinnovato senso di classicità, di antica eleganza ed una sensibilità che appartiene alla coscienza moderna. Da questo incontro nasce un nuovo ideale di bellezza, capace di sfidare il tempo. Ed ecco le sue figure femminili diventare l'immagine stessa di una condizione sempre attuale, come la sua Lady Macbeth, dalle scarpette da punta, dalle chiome sciolte e dallo sguardo perso nel terrore. Va ricordato che proprio il mondo della danza e delle sue celebri muse, come la Fracci, la Colla, la Savignano, ha ispirato a lungo l'arte di questo grande scultore di origine siciliana. Grazie. Grazie.